Quanta sette duemila diciassette allora bassi io poco io poco di più ho iniziato un po' prima perché ufficialmente sono in giro dal 95 quindi quanti quanti anni sono ma che faccio ora ecco una cifra che ho iniziato a fare le prime strofe ancora che ho 15 anni 16 anni in inglese quindi parlo 88 89 history history hai visto tutto hai visto sei un po' come bruno vespa che ha visto tutta la politica da questo però un paragone di merda non è vero invece bruno vespa c'ha credibilità nel suo mondo è un po tipo kid capri è